Ciao a tutti e bentornati ad Overa Gondor, il canale YouTube dedicato al mondo degli LCG. Allora oggi, grazie a Sergio, che oltre a essere un mio caro amico e anche un super esperto di Arkham Horror LCG, andiamo a iniziare questa rubrica che si svilupperà su 5 video, nel quale andrà Sergio a proporre un investigatore con un massimo di 19 punti esperienza, utilizzabile in maniera molto efficace in multiplayer, che potete prendere e usare per gli eventi, le partite di gioco, gli one shot, le print on demand, o anche eventualmente le campagne, nelle vostre serate di gioco. Non aggiungo altro, ringrazio Sergio per questo video, io vi ricordo se vi piace il canale iscrivetevi, che è un modo semplice per farlo crescere, visitate soprattutto il server Discord di Dovera Gondor, di cui trovate i link in descrizione, dove potrete trovare altri appassionati con cui discutere, fare domande, giocare campagne comunitarie, non aggiungo altro, vi lascio a Sergio. Ciao a tutti, oggi vedremo un mazzo di Roland Banks da 19 XP per uno stand alone. A tutti noi piace Arkham Horror per la profondità della sua campagna, però ci capita anche, almeno a me capita, penso anche a voi di volerci giocare uno stand alone, dove la difficoltà è un pochino più alta, e quindi il gioco ci dà la possibilità di inserire delle carte potenziate, di avere degli XP al prezzo di debolezze da aggiungere nel mazzo. Proviamo a fare un mazzo da 19 XP, che secondo me è un buon compromesso come potenziamenti e debolezze da inserire, in questo caso dovremo inserire una in più di quelle solite da inserire, e questo è un mazzo divertente, è un mazzo proprio per divertirsi, non è magari un mazzo super performante, però è un mazzo che sfrutta l'abilità di Roland Banks, cioè di sconfiggere un nemico e trovare un indizio, e potenza questa cosa all'ennesima potenza. Allora, vediamo intanto il personaggio Roland, ha delle statistiche molto solide, 3 di volontà, 3 di conoscenza, 4 di forza, solo 2 di agilità, un bel 9 di salute, 5 un po' basso di sanità mentale. L'effetto della stellina è un più uno per ogni clou della nostra location, mediocre, niente di che diciamo, però è sempre la stellina. Ha una pool di carte molto buona Roland Banks, perché lui, oltre alle carte guardiano, può prendere anche le carte del seeker, degli investigatori, di quelli che devono trovare indizi. Nel mazzo che ho fatto io, che vi propongo, in realtà andiamo più che altro a vedere la parte del guardiano per picchiare. Questo infatti è un mazzo non indicato forse per il solo, anche se Roland è un personaggio che si può giocare in solo. Questo è un mazzo più per giocare a squadre, per avere uno che si occupa principalmente degli indizi, Roland che si occuperà invece della gestione dei nemici, aggiungendo un'ottimizzazione nel recuperare indizi con la sua abilità. La sua abilità è semplice ma efficace, come dicevamo, perché in questo gioco alla fine cosa bisogna fare? Combattere i nemici, trovare indizi. Le due cose principali, sono tantissime sfumature per carità, ma queste sono le cose principali. E lui con la sua abilità aggiunge l'utile al dilettevole. Partiamo dai supporti. Come supporti mettiamo due asce runiche, due armature del cacciatore, Greta Wagner, un alleato, e due safeguard. I supporti runic axe e hunter's armor, e lascia runica la natura del cacciatore, sono personalizzabili, ed è lì dove spenderemo, o dove ho comunque deciso di spendere, la maggior parte dei miei XP. Greta Wagner, molto utile, perché ti dà più una forza, e dopo che sconfiggi un nemico, trovi una clune nella tua location, infliggendole un danno, e questa va a fare combo con la nostra abilità, safeguard, molto utile quando si gioca in multiplayer, perché possiamo seguire gli altri investigatori in giro per la mappa. Vediamo però come abbiamo potenziato, lasciar unica e l'armatura del cacciatore. Allora, lasciar unica, come potenziamento ho deciso di metterli, ci meglio di famiglia, lo rendiamo più leggero, insomma riduciamo di uno il costo, i guardiani sappiamo che fanno fatica a trovare risorse, descrizione della gloria, cioè se sconfiggiamo un nemico, riusciamo a curarci, un danno, un orrore o pescare una carta. Danno e un orrore naturalmente da curare, sono le cose su cui premere, soprattutto per Greta Wagner, perché lei prenderà un danno quando scoprirà un indizio e noi sconfiggendo un altro nemico potremmo curarle questo danno e comunque renderla un pochino più solida. Discrizione dagli antichi, molto utile anche questa, perché se questo attacco ha successo di ammontare dei punti pari o superiore al valore di oscuità nel luogo, scopriamo un indizio nel luogo, quindi vuol dire che noi già con Roland potremmo trovare, sconfiggendo un nemico, potremmo trovare tre indizi con Roland, Greta e questa iscrizione. E l'ultima che ho messo è in basso la tessigrafia, cioè per ogni carica a spesa possiamo infondere la lascia fino a due iscrizioni diverse, perché l'ascia si utilizza utilizzando le sue cariche e infondendo appunto un'iscrizione. Con questa abilità potremmo infonderne due, quindi potremmo infondere contemporaneamente quella dove faremo più un danno e se sconfiggiamo il nemico ci cureremo un orrore. Possiamo anche usare due cariche per mettere quattro iscrizioni in totale che è quello su cui gira un po' quest'arma per come l'ho costruita io. Spendendo due cariche avremo più due alla forza, più un attacco, ci cureremo di un danno, di un orrore, pescheremo una carta e soprattutto se avremo successo di un numero alto e con tutta la forza che ci hanno aggiunta l'ascia sia di default che con la carica spesa, riusciremo a trovare un indizio. L'armatura del cacciatore invece è molto più basica, l'ho voluta rendere semplicemente resistente aggiungendo due salute, consacrata per avere due sanità di mentale, avendo noi una sanità mentale molto bassa, e leggera, anche qua, perché i guardiani fanno fatica ad avere risorse. In più giocarla non provoca attacchi di opportunità, quindi possiamo anche essere ingaggiati con un nemico e decidere di giocarla per essere pronte a un suo attacco. Le permanenti in The Tick of It per avere tre punti esperienza in più, quindi questo è un mazzo da 19 XP più tre, perché arriveremo a 22. Subiremo due traumi fisici per poter sfruttare questi tre punti esperienza, tanto Roland con i suoi nove punti di salute riesce a tankare, e poi un bellissimo Stick to the Plan. Stick to the Plan, se lo conoscete, è un asset permanente eccezionale, quindi costerà il doppio di punti esperienza, non costerà tre, come segnalato nei suoi puntini, ma costerà sei. Esaurendolo, potremmo utilizzare appunto degli eventi tattica o scorta che abbiamo legato a lui. Io ho deciso di legare Prepare for the Worst, tattica che ci fa cercare nel nostro mazzo un'arma, perché dobbiamo cercare assolutamente queste asce, ci servono tantissimo, un Ever Vigilant, quando avremo un tot di asset in mano, potremo giocarli, oddio possiamo farlo anche subito, però questo per ottimizzarla sarebbe meglio avere tre asset in mano, giocarli, riducendo di uno il loro costo in risorse, e poi beh, la dinamite perché è la dinamite, non ve lo spiego nemmeno. Gli eventi che ho deciso di inserire invece sono Let me handle this, per aiutare un nostro compagno di squadra, e avere un più due nel risolvere l'attrice di capescato, ma questo può essere utile anche se il nostro compagno di squadra becca un nemico. Giochiamo questa, lo prendiamo, e possiamo utilizzare subito l'abilità di Roland, dell'Ascia e di Greta per ucciderlo e scoprire degli indizi nel luogo. Emergency Cache, il deposito di emergenza dovrebbe essere che ci dà tre risorse, beh, la schivata, la schivata perché volendo prendere noi nemici per cercare di ucciderli, se non ci dovessimo riuscire saremmo protetti. E poi soprattutto On the Hunt, questo è molto importante perché è un evento che ci permette di cercare nel mazzo degli incontri un nemico, quindi siamo in un luogo con tanti indizi. Vogliamo ottimizzare la nostra pescata, siamo ben armati, abbiamo già una bella mano, o giociamo On the Hunt, giocando On the Hunt peschiamo un nemico e se abbiamo in mano anche Scena del Crimine possiamo subito giocarla per beccare due indizi e uccidendo il nemico non potremo beccare altri. E uccidendo il nemico quindi attiviamo l'abilità di Roland, l'abilità di Greta, se riusciamo ad aver successo l'abilità dell'Ascia e un bellissimo questa è la prova o qui è la prova ecco la prova che ci darebbe un altro indizio ancora. Insomma ragazzi se avessimo un luogo con sei indizi noi con Roland, Greta, ecco la prova, Scena del Crimine e l'Ascia riusciamo già a prenderne cinque non è male ah no sei perché Scena del Crimine ne dà due se c'è il nemico nel luogo ancora meglio svuoteremmo una stanza intera. Le abilità che ho deciso di mettere sono fegato Roland ha una buona statistica di volontà ma fegato è sempre utile perché le triceri sappiamo quanto ci fanno soffrire e se beccassimo troppi orrori diventerebbe difficile per noi Overpower per potenziare al massimo la nostra forza Vicious Blow questo è un colpo letale per massimizzare i danni grazie all'Ascia Vicious Blow riusciremo a fare più due danni quindi sarebbero tre danni in un colpo con un'Ascia che potenziandola ricordiamoci che ci dà più uno di base più due se usassimo una runa quindi andremo a una caratteristica di forza molto alta e i Sparring Presence questa è utile per curare e stappare per così dire Greta ovvero uccidiamo un nemico facciamo un danno a Greta la tappiamo e becchiamo un indizio il nemico dopo se c'è un altro nemico nel luogo siamo ingaggiati con due uno lo uccidiamo usiamo subito Greca per l'altro utilizziamo questa in Sparring Presence per attaccarlo se abbiamo successo la prima cosa che succede è mettere Greta pronta e curandole un danno per poi risolvere l'effetto del avete sconfitto un nemico sì allora Greta verrà esaurita le faremo un danno e beccheremo un indizio per quanto riguarda la mano iniziale e il mulligan come molti guardiani dobbiamo cercare di fare la prima mano di setup e quindi mulligare pesante per trovare la nostra ascia runica che è la nostra arma il nostro asset più importante quindi il mio consiglio è di se nella prima mano le prime 5 carte non abbiamo l'ascia runica mullighiamo tutto possiamo solo pensare di tenere una Greta Wagner se l'abbiamo in mano se anche nella seconda mano dopo aver fatto il mulligan non ci arriva la sciarunica allora il nostro turno io pensavo di comporlo così le prime 3 azioni saranno prima 2 azioni di pescata e se non arriverà la sciarunica esaurire stick to the plan per giocare prepararsi al peggio pescare tra le nostre 9 carte per boccare una weapon asset perché non fare subito come prima azione prepararsi al peggio perché l'idea è se noi nelle due azioni che facciamo nelle due pescate che facciamo riusciamo a beccare la sciarunica senza dover usare prepararsi al peggio allora potremmo esaurire stick to the plan per usare sempre pronto sempre vigile e poter giocare già la sciarunica con magari anche un altro supporto o altri due supporti se abbiamo fortuna riducendo di uno il costo a risorse quindi stick to the plan ci serve pronto lo esauriamo e usiamo prepare for the worst solo se nelle prime due pescate non ci capita la sciarunica questa secondo me è la prima mano di setup come dovrebbe essere fatta dobbiamo cercare di riuscire a mettere giù subito la sciarunica per essere pronti il board ideale io lo pensavo così allora oltre ai nostri supporti che ci servono certamente il board ideale io lo considero in realtà una mano ideale che è quello che vi ho detto un pochino prima il giochetto che vi ho detto un pochino prima avere in mano scena del crimine on the hunt e evidence questo sarebbe proprio perfetto perché appunto come abbiamo visto sconfiggendo un nemico non riusciremo a beccare 1, 2, 3, 4, 5, 6 indizi 6 indizi in un colpo solo è un bel un bel massimizzare le nostre azioni i nostri turni una variazione che vi propongo però se avete abbastanza punti di esperienza è di inserire arma incantata o incantarma un evento che viene inserito viene attaccato alla nostra arma che occuperà anche uno slot arcano ma in questo mazzo slot arcano io non ne ho occupato nemmeno uno quindi questo si può benissimo usare aggiungerà il nostro valore di testa e Roland ha un bel 3 di testa al nostro valore di pugno arriveremo a un numero altissimo di forza per riuscire a attaccare il nemico e sconfiggerlo questo mazzo l'ho voluto chiamare Roland Find It All Roland trova tutto come dicevo è un mazzo più che altro per divertirci per provare nuove cose nei vari stand alone e l'ho creato appunto per riuscire a massimizzare l'abilità di Roland e riuscire a beccare sempre più indizi è un mazzo che come dicevo per il solo secondo me non può funzionare naturalmente perché non è che abbiamo solo cioè l'unico modo che vogliamo trovare indizi è trovando nemici se abbiamo uno scenario dove non ci sono tanti nemici Roland non riesce a fare più di tanto avendo compagni di squadra che si occupano degli indizi noi possiamo semplicemente proteggerli e se saltasse fuori un nemico ci divertiremo a svuotare le stanze allora vi ringrazio di avere visto questo mazzo che vi ho voluto proporre nei commenti metterò il link al mazzo se volete curiosare vi chiedo cosa secondo voi sarebbe da modificare non per ottimizzarlo ma per renderlo divertente perché come vi ho detto questo qua non è un mazzo ottimizzato è un mazzo più che altro divertente cosa inserireste voi e magari anche che altri investigatori vi piacerebbe vedere possiamo creare altri mazzi da 19 XP da poter poi provare nei nostri scenari stand alone bene finito questo video ci vediamo nel prossimo io vi ricordo se vi piace il canale iscrivetevi che è un modo semplice per farlo crescere ringrazio nuovamente Sergio vi aspetto su server discord grazie ciao alla prossima